buonasera e benvenuta alla diciassettesima puntata di basilicata sport iniziamo a parlare come di conserto di calcio a 5 in 0 e c2 girone b si è disputato il derby real maratea treppivale del noce vinto dai padroni di casa per 4 a 1 la treppivale del noce paga una poca concentrazione prima e durante il match contro un real maratea ben messo in gambo a cui non è pesata l'assenza di marino da segnalare durante la partita l'invortunio grave al gomito per alessandro cozzi i tempi di recupero si avvicinano al mese quindi stagione a rischio ma vediamo ora tutti gli altri risultati bangone 2007 dinamo vigiano 8 a 2 castrum baianelli stato e potenza 6 a 0 cirigliano amici di via roma 9 a 5 lions aurora tursi 4 a 9 progetto tito nemoli 9 a 1 real maratea treppiva al noce 4 a 1 riposa a menefussal la classifica real maratea prima 51 punti progetto tito a 49 più staccato il castrum baianelli a 38 treppivale del noce a 37 menefussal a 36 aurora tursi a 34 cirigliano a 28 bangone a 24 nemole a 19 lions a 17 amici di via roma 15 dinamo vigiano a 12 chiude lo stat a 9 punti chiudiamo con il calcio a 5 e passiamo al calcio dando un'occhiata a tutti i risultati della seconda divisione catanzaro avellino 1 a 0 fondi neapolis 2 a 3 isola liri latina 1 a 1 matera campo basso 1 a 1 melfia versa normanna 0 a 1 pomezia vigor la mezzia 3 a 0 trapani brindisi 4 a 0 vibonese milazzo 1 a 2 la classifica latina prima a 49 punti seguito dal trapani a 48 milazzo a 44 neapolis a 41 a velino a 39 a versa normanna a 38 pomezia a 37 matera a 33 brindisi a 28 vigor la mezzia a 27 melfi fondi e isola liri a 26 campo basso a 24 vibonese a 16 ultimo il catanzaro a 4 punti in serie di vittoria per entrambi le lucane il pisticci batte in gas il grottaglio per 4 a 0 mentre il frangavilla vince in gas a dell'ischia per 1 a 0 in classifica situazione tranquilla per il frangavilla mentre il pisticci resta nelle zone basse a rischio play out passiamo ora alla promozione dando un'occhiata ai risultati della 27esima giornata aurora tursi soccer lago negro 1 a 0 atletico potenza rotondella 3 a 0 bella balvano 0 a 1 bernalda sandarcangiolese 3 a 0 cangellara mondescaglioso 3 a 1 grotto lersina 0 a 1 pescopagano varisius matera 0 a 0 sporting pignola atletico scanzano 0 a 3 la classifica atletico scanzano prima 75 punti è già promosso atletico potenza 59 a un punto dall'eccellenza sporting pignola 46 cangellara 45 bernalda 43 pescopagano 42 real irsina 37 sandarcangiolese 34 balvano 33 grottole a 31 rotondella soccer lago negro e tursi a 28 varisius matera a 25 mondescaglioso a 22 bella ultima a 20 in prima categoria continuo il duello al vertice tra latronico e grassano divisa ancora da solo un punto ma vediamo ora la situazione generale del gironi grassano satriano 1 a 0 latronico valsini 2 a 1 pomarico accettura 1 a 0 roccanova metanauto 4 a 0 sporting chiaromonte real grumento 2 a 0 sporting laurea sporting frangavilla 2 a 1 tricarico invicta aburgenza 0 a 2 villa dagri salandra 0 a 2 la classifica latronico prima 69 punti seguito dal grassano a 68 pomarico a 51 villa dagri a 43 sporting laurea 42 valsini a 37 satriano a 36 tricarico a 35 indicta aburgenza 32 sporting chiaromonte a 29 salandra a 28 roccanova 26 grumento a 23 frangavilla 16 accettura 13 metanauto ultima 8 punti lo sporting laurea triom vengasa contro lo sporting frangavilla per 2 a 1 la vista per noi domenico cantisani al campo di laurea va di scena sporting laurea sporting frangavilla match valido per la decima giornata di ritorno del girone b di prima categoria padroni di casa favoriti che partono subito forte con il gol di winan perretti poco dopo ci prova miceli con un tiro lento è facile da bloccare ma si rifà con il contropiede che porta sul 2 a 0 i padroni di casa il frangavilla rischia di prendere il terzo gol ma il portiere combia un autentico miracolo dopo una mezz'ora arriva la prima vera occasione degli ospiti che fanno il gendro con una grande girata al volo il frangavilla sembra crederci e ci prova con due tiri che non inquadrano lo specchio della porta a fine primo tempo tiro di miceli che esce al lato non di molto nella ripresa poche occasioni da una parte dall'altra la prima per lo sporting laurea ma non riesce il tappino sotto porta a questo punto ci prova il frangavilla con un destro al volo e poi con un tocco sotto del numero 9 ma in domande le conclusioni sono di scarsa precisione finale di partita riservate ai padroni di casa ci prova il numero 11 con un tiro però debole poi grande avanzata di miceli che però è indeciso sul da farsi e sbaglia poco dopo ancora lo scatenato miceli salta tre giocatori ma si fa respingere la palla dal portiere per il laurea importante vittoria e quindi posto contro di dato per il frangavilla sarà difficile salvarsi chiudiamo con il calcio e passiamo al volley vedendo i risultati della ventunesima giornata della serie b2 maschile amatori potenza algoritmi tre mestieri 0 a 3 calli po vibo valenza publieme pizzo 0 a 3 catanzaro poi atti ragusa 0 a 3 gli image giarre trapani 3 a 1 nicodemo laurea jacky paola 3 a 2 punto casa messina sede del lago negro 1 a 3 riposa mondo giovane messina la classifica nicodemo laurea sempre più prima 49 punti seguita dal publieme pizzo 48 jacky paola 41 poi atti ragusi algoritmi tre mestieri a 38 new image giarra 32 trapani a 30 calli po vibo valenza 25 catanzaro a 22 sede del lago negro a 21 punto casa messina 20 mondo giovane messina 14 ultimo lamatori sembra 0 punti chiudiamo con l'occhi su pista la raro pattinomania conquista le semifinale dei playoff di serie a 2 battendo in gara 3 in casa il corregio per 7 a 6 grazie a una rete nei minuti finale di santeramo ora in semifinale affronterai vicendini del trissino appuntamento per gara 1 a matera sabato prossimo e anche con questa puntata è tutto vi rimando alla prossima puntata sempre con basilicata sport grazie e buona serata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie.